Questi sono dati certi che noi raccogliamo, dati che tutti i mesi le imprese ci mandano e già nel 2008 eravamo registrati una petita di 350 posti di lavoro nella nostra provincia tra luglio e dicembre. La flessione è conseguita anche nel 2009 con 136 lavoratori iscritti in meno. Presidente, ci può in una battuta riassumere qual è la situazione occupazionale rispetto al punto di vista della Cassa Edile? Sì, ad oggi i posti persi nella nostra provincia sono circa 750. Io ritengo che non si sia ancora toccato del tutto il fondo, ma soprattutto credo che nel nostro settore, nel settore dell'indirizia, quando riprenderà, perché per me dovrà passare tutto il 2010 con la parte del 2011, il modo di operare, il modo di lavorare sarà diverso di quella attuale.